L'ALE ALE! L'ALE ROSSI ALE! Ohhhh, L'ALE aLE! Leh, 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 L'ALE ROSSI ALE! Ohhhh, Leh, Leh, Leh! L'ALE, L'ALE ROSSI ALE! Fatti dell'ANE Vicenza, Fermana 3 a 1 Prima fase del primo tempo Per dominanza delle ANE Poi ci sono venuto fuori anche loro Non siamo riusciti a concretizzare molto, però bel rigore di Giacco al quarantesimo, peccato per quel pallone vagante in area che allo scadere deve pareggiare la fermata, speriamo nel secondo tempo. Nel secondo tempo Mimo cambia filosofia, lanci lunghi e pedalare, i corazzieri davanti reagiscono bene e arma con un lampo dei suoi sigla il 2 a 1. Da lì in poi predominio Lane e si sblocca anche Bomber Marotta, 3 a 1 al Menti, tutti contenti, forza Lane! Ciao!